Cari rettori di Cerignola Viva siamo qui dal Paladireo con l'associazione podistica Santo Stefano qui con me il presidente Luigi Manzi e le due podiste Luana Greco e Doriana Minervini Presidente, un'associazione che da anni sta promuovendo la podistica come, dove, quando nasce l'associazione podistica Santo Stefano? è nata da un gruppo di amici sulla strada Santo Stefano di Cerignola e sono quasi dal 97 che stiamo andando avanti, andiamo avanti molto bene stiamo avendo dei consensi apprezzati da sponsor e da amministrazioni comunali quindi questo ci dà la possibilità di andare avanti e crescere siamo arrivati a un punto, insomma, abbastanza l'asticella, abbiamo usato parecchio quindi continuiamo su questa strada con il consenso un po' di tutti Ecco, un'associazione che comunque conta quasi 100 iscritti e quanto è importante appunto il numero in una città come Cerignola? 100 iscritti per la verità no, siamo a 75 ma abbiamo tanti di quei ragazzi e uomini e donne intorno che collaborano e che in questo momento magari per tanti motivi non si sono iscritti noi li aspettiamo perché 100 iscritti per un paese come Cerignola ci sembrano già pochi visto tante persone che si occupano e che si divertono facendo questo sport Ecco, negli ultimi tempi anche tante iniziative volte a sensibilizzare anche il mondo delle disabilità ricordiamo che corriamo insieme più di un mese fa Sì, non solo, sono tante iniziative, tutte quelle che sono in programma perché non è solo farle, bisogna anche programmarle programmare quella per il 2018 che abbiamo una gara importantissima il 16 di settembre quindi il Cori Cerignola per la 13esima edizione e poi ci sono tutte queste altre iniziative compreso anche una festa sociale che facciamo ogni anno allo Smeraldo a Canosa Ecco, quanto è importante programmare e organizzare eventi di questo tipo in un paese come Cerignola? È molto difficile, ho dei collaboratori che sono eccezionali e quindi mi aiutano anche sotto questo aspetto come in questo momento le due ragazze che stanno qui che sono a disposizione dell'associazione da due anni a questa parte quindi stiamo facendo i progressi enormi e l'impegno, l'impegno di tutti, l'impegno magari mio personale l'impegno dei collaboratori, l'impegno loro, delle ragazze che fa sì che tutto vada bene speriamo in un futuro successivamente magari dirò che cosa sei in programma Ecco, Luana, quanto è importante per te la partecipazione alla Polistica Santo Stefano e un bilancio dei tuoi due anni con l'associazione? A parte che prima che è un'associazione è una grande famiglia questo significa che c'è un clima bellissimo all'interno della nostra associazione e poi tutto ciò che noi facciamo, tutti i vari progetti, tutte le varie gare per quanto possano sembrare magari un qualcosa di non comune in realtà sono solamente dei modi per vivere bene lo sport questo è il messaggio principale che vorrei lanciare cioè non solo a me come ragazza, magari a tutte le altre ragazze o altri ragazzi che vorrebbero fare questo sport non è un qualcosa di agonistico è un qualcosa comunque di amatoriale dove noi comunque ci divertiamo tutte le domeniche stiamo insieme anche da un punto di vista fisico soprattutto noi ragazze, Doriana è vero abbiamo anche dei grandi miglioramenti questo è un invito anche a tutte quelle ragazze che magari vediamo correre a San Marco così ogni tanto se loro magari avessero questa volontà di iscriversi a noi fa solamente piacere perché più ragazze siamo più ci divertiamo e poi soprattutto diamo uno schiaffo morale a questi ragazzi che magari, capito, ogni tanto ci buttano un po' dietro dicendo che magari loro sanno fare più di noi magari noi dimostriamo di raggiungere anche i podi come è capitato nei miei ultimi due anni raggiungere dei risultati che per quanto mi riguarda personalmente sono piccole soddisfazioni Ecco, appunto di questi podi se ci elenchi qualcuno perché io ovviamente non ne ricordo parecchi perché la mia memoria è un po' a breveraggio Bene, sono tantissimi perché l'anno scorso nelle varie gare del Corri Capitanata sono stati quasi tutti i podi i podi più belli sono stati Corri Puglia che sono delle, diciamo, dei, come posso dire delle gare che organizziamo che organizza la FIDAL quindi le varie associazioni dove magari ci sono molte più persone quindi tu hai confronto, hai un confronto sportivo con persone magari di un livello superiore quindi magari raggiungere quel tipo di podio porta una soddisfazione maggiore poi stiamo facendo da due anni a questa parte una nuova, come posso dire, Presidente? per quanto riguarda il trofeo degli ulivi Ma tu stai parlando troppo Presidente, scusi faccio parlare la ragazza Doriana, ecco qual è la tua esperienza con l'associazione Santo Stefano? Allora, io la mia esperienza è molto breve perché mi sono iscritta a gennaio di quest'anno e già non posso più farne a meno perché trovarmi in questa realtà è veramente, veramente molto piacevole come ha detto la mia amica runner Luana siamo una famiglia sono tutti quanti molto accoglienti non abbiamo soltanto il gruppo di podisti, di corridori ma anche di semplici camminatori infatti ci sono persone che magari non se la sentono di correre però vogliono semplicemente mantenersi in salute riunirsi tra di loro e quindi semplicemente camminare e partecipano anche alle gare noi corriamo gli altri invece fanno i loro 10 km semplicemente camminando solo per fare questa bella esperienza e come lei stava accennando quest'anno abbiamo iniziato una nuova iniziativa che si chiama il trofeo degli olivi quindi Cerignola insieme ad altre città quali sono queste città? insieme ad altre 11 città stiamo partecipando e siamo responsabili di questa di questa iniziativa di queste gare che vengono fatte in queste 11 città di donne però purtroppo come è già stato detto ce ne sono sempre poche quindi le donne sempre peccano in determinati contesti e sarebbe opportuno che venissero anche perché siamo persone normali quindi potete partecipare tutti forse non tanto normali dal punto di vista psicologico però dal punto di vista fisico siamo normali quindi siete ben accette vi vogliamo venite ecco quindi presidente una bella realtà quella dell'associazione Santo Stefano che raccoglie consensi anche fuori Cerignola adesso i prossimi obiettivi per il futuro ogni tanto quest'anno quest'anno diciamo dopo le gare la gara che abbiamo fatto e correre insieme chiudiamo con questa iniziativa con questa iniziativa del 16 settembre che è una gara a livello regionale una gara importantissima per il nostro paese per la nostra società per quanto riguarda invece il 2019 con i collaboratori con l'assemblea abbiamo deciso 3-4 iniziative sempre facciamo a gennaio-febbraio un cross in una masseria di Cerignola che dobbiamo ancora diciamo definire abbiamo contattato ma dobbiamo ancora definire una masseria di Cerignola un cross che parliamo di 4-5 km poi c'è la tappa del Corri Capitanata che quindi è interessata tutta la provincia di Foggia e poi abbiamo correre insieme che quest'anno il 2019 lo faremo con la collaborazione di altre realtà vicine a noi con la federazione CIP che sono questi ragazzi bravi come le cooperative che noi abbiamo coinvolto quest'anno e quindi ci sarà anche quest'altra iniziativa poi successivamente man mano che andiamo avanti escono altre cose quindi escono per esempio la staffetta escono la staffetta e escono altre cose quindi vogliamo arricchire diciamo questo 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 nostro percorso e soprattutto ho detto anche prima appoggiate dalle amministrazioni che sono succedute in questi periodi anche ultimamente con noi diamo la disponibilità affinché insomma Cerignola si colori e riconosca anche che questo sport che è l'aria aperta che non è costoso può essere fatto anche da da tante tante persone ecco quindi un 2018 e un 2019 pieno di impegni e pieno di iniziative io personalmente ringrazio tutti voi per aver scelto Cerignola Viva per questa intervista e ovviamente vi ringrazio a nome della città e dello sport perché contribuite nel vostro piccolo a far crescere la città ovviamente io vi ringrazio ancora una volta grazie a voi grazie a te grazie a te sì sicuramente sicuramente grazie a voi e un saluto da Alfonso Di Vito grazie a te grazie a te